Volete anche voi delle gift card Amazon gratis? Ciao sono Daniele per gli amici subri e oggi vi farò scoprire un nuovo metodo per ricevere delle gift card Amazon completamente gratuite che vi permetteranno quindi di fare la spesa su Amazon senza spedere nulla. Collezionando queste gift card infatti potrete avere un saldo Amazon proprio come questo o chissà magari anche qualcosa in più. Prima però di iniziare a fare shopping compulsivo su Amazon mi raccomando se non lo siete già ricordatevi di iscrivervi al canale e soprattutto cliccare sulla campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati su tutti i contenuti che faccio uscire ogni giorno qua sul canale che parlano di come comprare, vendere, guadagnare e risparmiare online. Chi di voi non vorrebbe avere un saldo Amazon del genere generato in maniera completamente gratuita? Penso bene o male tutti soprattutto quando si pensa alle festività che stanno arrivando come Black Friday e Cyber Monday. Sappiamo che Amazon in questi casi ci dà giù con le offerte come se non ci fosse un domani quindi tanto bene iniziare a sfruttare queste occasioni un po' prima e riuscire quindi ad avere un sacco di buoni Amazon per fare la spesa completamente in maniera gratuita. Sì quasi potranno collezionare gift card e intendo che si potranno fare in maniera completamente gratuita perché non dovrete fare assolutamente nulla di diverso rispetto a quello che fate nella vita di tutti i giorni ovvero uscire, andare a fare spesa, fare carburante e tante altre cose. Shopee Code è il portale che permetterà di avere queste gift card gratuite infatti come c'è scritto sul sito c'è la possibilità di avere tantissime gift card completamente gratis. C'è un catalogo vastissimo ma come sappiamo quelle più amate sono proprio quelle di Amazon. Oltretutto ci sarà anche la possibilità di avere uno sconto maggiore ma ve lo dico dopo ho fatto un mezzo accordo con la piattaforma e vi riesco a far risparmiare ancora di più. Vi anticipo già che per ottenere questo sconto link in descrizione e nel primo commento per registrarsi alla piattaforma. La prima cosa da fare proprio per iniziare ad accumulare gift card gratis sarà quella di registrarsi e basterà cliccare in alto sulla destra dove c'è l'omino stilizzato per poi cliccare su registrati. Quindi inserire il nome, il cognome e scegliere una password. Dopo aver affettuato l'accesso si dovrà andare nel catalogo acquisti e come potete notare le gift card disponibili sono veramente tantissime. Attenzione però perché queste sono le gift card che si dovranno acquistare non quelle che si potranno ricevere gratis. Le gift card che potrete acquistare come si può notare oltre alla scelta del taglio avranno anche una percentuale che riguarda i PTS. Ma che cosa sono questi PTS? Semplicemente dei punti che si collezioneranno quando si acquisteranno queste gift card che daranno appunto la possibilità di prendere tutte le altre gift card gratis. Vi faccio un pratico esempio con le smart box acquistando una card da 50 euro potrò accumulare 14,4 PTS che come segnalato in precedenza sono il 28,8%. Un'ottima idea visto che si sta avvicinando a Natale potrebbe proprio essere quella di comprare la smart box per regalarla a Natale a qualcuno e nel frattempo risparmiare grazie a questa iniziativa. Oltre a comprare le smart box però si potrebbero comprare delle gift card prima di andare a fare spesa al carfuro oppure prima di comprare su Zalando o perché no anche su tutti gli altri portali messi a disposizione sul sito come ad esempio le gift card della playstation, dell'xbox, della nintendo, di spotify e di tante altre card legate al gaming. Adesso però arriva il bello dopo aver preso le gift card per fare un regalo oppure come vi ho detto per la spesa di tutti i giorni quindi senza spendere nulla in più di quello che si spende normalmente si potranno convertire questi punti in altre gift card che quindi saranno gratis avrete speso zero. Andiamo quindi rapidamente sul catalogo dei premi qua si potranno vedere tutte le gift card disponibili e la prima qual è è proprio quella di amazon ma quanto costa una gift card amazon? Come potete vedere i tagli sono tantissimi vanno dai 5 ai 50 euro e quella da 5 euro costa solo 5 punti. Avete notato l'acquisto che ho simulato prima una smart box da 50 euro mi dava circa 15 punti quindi vuol dire 15 euro di amazon gratis. Adesso però arriva il regalo promesso per voi ovvero un ulteriore sconto simuliamo proprio di fare un acquisto per la gift card che abbiamo visto della smart box da 50 euro dopo aver aggiunto al carrello questa e anche altre se volete andando al checkout come potrete notare vi verrà in automatico applicato lo sconto del 3% che non intaccherà i punti guadagnati quindi sarà uno sconto a tutti gli effetti. Se per caso in questa sezione non dovesse esserci lo sconto proseguite con il pagamento e vedrete sulla destra la possibilità di aggiungere il codice sconto proprio sopra al totale ed in questo caso dovrete scrivere subri e cliccando su applica in automatico risulterà lo sconto. Le modalità di pagamento poi come vedete sono le più disparate c'è la possibilità di pagare con la carta di credito debito prepagata addirittura in bitcoin e anche bonifico. Questa piattaforma è nata da poco ma ho avuto l'occasione di parlare direttamente con il responsabile chi gestisce questa piattaforma e abbiamo insieme raggiunto un accordo proprio per darvi questo 3% di sconto su tutte le gift card prese in un unico ordine e mi raccomando il primo ordine che farete. Quindi in questo caso mio consiglio personale accumulate più gift card possibili tra spesa carburante smart box o quello di cui avete bisogno fate un'unica spesa e il tutto vi verrà scontato del 3% che è tantissimo. Il codice però purtroppo ha una scadenza è valido solo fino al 31 dicembre del 2023 se state vedendo questo video dopo provateci magari sarò riuscito a farlo prorogare ma non ve lo assicuro però vi consiglio visto che si sta avvicinando black friday di fare il vostro acquisto il prima possibile. Come sapete però cerco sempre il trucchetto nel trucchetto per farvi guadagnare e risparmiare il più possibile e ho scoperto un modo per poter caricare l'account amazon e allo stesso tempo guadagnare gift card amazon. Tra il catalogo acquisti ci sono le global gift card che purtroppo come punti danno solo lo 0,32% però appena ho visto questo sito mi è subito venuta in mente una grande occasione perché io sopra questo portale ci riscatto le gift card amazon che alcuni panel danno come premio. Tra i tanti acquisti che potrete mettere nel carrello perché non mettere anche qualche global gift card che allo stesso tempo andrà a fare cumulo nei punti guadagnati e poi con quelle global gift card potrete semplicemente prendere una gift card amazon sul sito global gift card e ricaricare il vostro account amazon così guadagnerete i punti dei punti per poi avere delle gift card amazon gratis. Geniale come vi dicevo prima però ho parlato con chi c'è dietro questa piattaforma e ho scoperto che secondo loro stime calcoli le ricerche che avranno fatto una famiglia media all'incirca all'anno può risparmiare 500 800 euro proprio perché accumula tra i 500 e gli 800 pts quindi voi vi immaginate un saldo amazon di 800 euro completamente a gratis. Secondo me però il risparmio che si può ottenere da qui è anche maggiore infatti utilizzando i filtri si potrà andare a vedere semplicemente se una determinata piattaforma fa parte di shopping code e quindi prendere la gift card prima di andare a fare spesa o prima di andare a fare carburante o magari prima di rinnovare l'abbonamento netflix o comprarsi qualcosa sul playstation store insomma avete capito sfruttarla a 360 gradi. Secondo me questa piattaforma è una genialata vi ricordo link in descrizione e nel primo commento per ricevere ulteriore 3% di sconto solo sul vostro primo ordine codice valido solo fino al 31 dicembre per ora quindi affrettatevi se però avete altri dubbi domande sezione commenti sempre aperta magari una volta provata ditemi anche la vostra. Grazie a tutti.